È un weekend da cerchiare in rosso per i commercianti e per i consumatori a caccia di occasioni. Sabato 2 luglio è infatti la data di partenza dei saldi estivi nelle Marche. Saldi che dureranno praticamente due mesi per concludersi il primo settembre. Fra i commercianti pesaresi del centro storico, questo il parere in merito a questo crocevia importante della stagione di vendite. È un momento clou dell'estate perché comunque sì, è vero le vendite sono buone lo stesso, però con i saldi si incentiva ancora di più. Quindi riusciamo un attimino anche ad accontentare il cliente, abbiamo molte merce, quindi siamo contenti anche per portare anche gente. È un momento che aspettiamo con molto entusiasmo e energia e faremo importanti promozioni sia nel negozio da uomo che questo. Quindi nel negozio da donna che è in via Branca 31. Partiamo subito con un saldo importante, uno sconto per avvantaggiare tutti i nostri clienti sia di vecchia data che anche nuovi. Allora è sicuramente un momento speriamo di affluenza di clienti che verranno sicuramente per trovare le occasioni per vestirsi, visto che l'estate è iniziata da poco, dobbiamo continuare a vendere il prodotto estivo. Però se devo dare il mio parere, come dico tutti gli anni, questi saldi sono un po' troppo anticipati. Io i saldi ritornerei a fare come erano una volta a fine agosto. A fine agosto, metà agosto, insomma il periodo di agosto dove la stagione sta finendo e allora lì possiamo fare dei saldi anche più accattivanti diciamo. Sono saldi particolari perché c'è ancora la maggior parte dell'estate all'orizzonte e va da sé che c'è la possibilità di scovare ottime occasioni per gli acquirenti di capi per la bella stagione. Noi inizialmente partiamo con dei saldi diciamo abbastanza bassi ma che comunque incentivano il cliente all'acquisto, dopodiché andiamo ad aumentare. I consumatori che si rivolgono ai negozi seri, quelli che comunque non alterano i prezzi che rimangono con gli stessi cartellini diciamo, certamente è un'occasione perché sono gli sconti e quindi il prezzo diminuisce notevolmente.